Si dice che se si inserisce il proprio numero di telefono all'interno del seed di Minecraft verrà fuori un seed incredibilmente bello, andiamolo a provare subito. Allora, andiamo a dare il nome al mio mondo chiamandolo il mio numero e andiamo a mettere nel seed il mio numero di telefono. E voilà, ce lo abbiamo e ora non ci resta altro che creare il mondo e vedere se effettivamente viene fuori il mondo più bello di Minecraft oppure no. Ci siamo quasi, quello che io mi aspetto è magari una giungla perché capito, giungla verde, io adoro il verde quindi magari sarebbe la cosa perfetta da trovare. E una pianura mi sembra, c'è un villaggio che è una cosa non da poco però mi sembra una semplicissima pianura che magari può essere carina per una vanilla. C'è una foresta, ok, c'è qualche montagnola, non lo so, sono un pochino deluso, carino però c'è molto di meglio all'interno di Minecraft, no? Vi sfido a provarci anche voi e farmi sapere sotto nei commenti se vi esce un mondo bello o uno schifo come il mio, però io ci ho sperato un pochettino.